Si presenta a fare un progetto, il progetto è Sion. Grazie mille. Iniziativa di questo tipo, quando ce ne vuole, competenza e ricerca continua. Comunque c'è da dire che questo è il nostro futuro, quindi investiamo appunto nella nostra creatività e nella nostra voglia di affermarci in quella che è alla fine la nostra passione. E soprattutto crediamo che poi a Sud ci sia tessuto fertile per portare avanti iniziative interessanti. Non solo nel nostro caso, ma in generale. Ricordiamo brevemente il vostro progetto, proprio le finalità, in breve. Allora, il nostro progetto è un materiale derivato da materiali riciclati, cotone e plastica, con cui è possibile progettare pannelli, oggettistica. E quindi tutto ciò che la creatività può suggerire, insomma, è sensibile. E poi c'è l'esistente a tutta una serie, insomma. Soprattutto c'è da dire che il design in questo caso diventa economico, perché appunto questo materiale, ci siamo impegnati appunto a progettare un materiale soprattutto economico. Appunto è democratico, perché spesso appunto il design non è appunto democratico, comunque rispecchia una nicchia stretta di persone. E poi in un'ottica imprenditoriale, ma anche appunto di materiale, un materiale a ciclo chiuso. Dalla raccolta al progetto, alla vendita, recupero del prodotto finito, che verrà poi successivamente rientrodotto all'interno del ciclo, appunto a ciclo chiuso. Grazie.